Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo di narrativa contemporanea, un'immersione profonda nelle tradizioni musicali e culturali del Perù, ma riflette anche il potere trasformativo dell'arte. Vargas Losa esplora il tema della passione artistica come forza di cambiamento sociale e personale, creando un ponte tra storia, cultura e musica. La vicenda di Tono rappresenta il sogno dell'artista che, nonostante l'indifferenza della società, continua a credere nel valore universale della bellezza e dell'arte come mezzo di riscatto e unione. La trama del libro Le Dedico Il Mio Silenzio dello scrittore Mario Vargas Losa, pubblicato dalla casa editrice in Audi, è la seguente. Tono Aspilqueta è il più grande esperto di musica peruviana. Anche se lo sanno in pochi, accademico irrealizzato e insegnante insoddisfatto, Tono conduce una vita anonima alla periferia dei circoli intellettuali di Lima, sdegnosi della sua vasta erudizione. Ma quando Tono ascolta per la prima volta l'Alo Molfino, misterioso chitarrista dal talento eccezionale, cambia tutto. Perché quelle note gli danno la forza di inseguire il sogno in cui ha sempre creduto. Mario Vargas Losa torna al suo amato Perù, alle radici delle sue tradizioni, e da voce a un'utopia. Quella di un intero paese che, grazie all'arte, si stringe finalmente in un abbraccio fraterno. Tono Aspilqueta vive per la musica peruviana, e ne è forse il più autorevole, appassionato conoscitore, anche grazie agli insegnamenti del grande maestro Morones. Sua guida negli anni universitari che si sono conclusi con il sogno sfumato di una cattedra dedicata al folklore nazionale. Negli anni, invece di guadagnarsi un posto di rilievo in seno all'elite intellettuale di Lima, Tono è riuscito solamente a riversare il suo vasto sapere in infervorati articoli pubblicati da riviste minori o in lunghe orazioni destinate a pochi eletti. Per lo più casuali frequentatori di locali in cui si respira il Perù autentico. Per questo è costretto a insegnare a scuola, e ad accontentarsi di un'anonima esistenza alla periferia della capitale e del cuore pulsante della cultura. Un giorno Tono riceve una chiamata sommamente inaspettata. José Duran Flores, il celebre scrittore, lo invita ad assistere a un'esibizione di Lalo Molfino. Un chitarrista mai sentito nominare. Al concerto Tono si ritrova al cospetto di un musicista dal talento unico, capace di emozionare profondamente il pubblico. Ma chi è davvero quel giovane? E perché non ha la fama che merita? Tono decide di intraprendere un'indagine personale. In un viaggio attraverso una terra segnata dalla violenza di Sendero Luminoso, si mette sulle tracce di Lalo Molfino. Alla ricerca delle sue origini, incontrando i suoi amori, inseguendone il fantasma sulle strade che l'hanno portato a diventare un'artista ineguagliabile. E per tono quell'impresa si trasforma presto in una missione, la più ambiziosa. Scriverà un libro per ripercorrere la storia dei ritmi del Perù, e per rendere omaggio al sogno che Molfino ha illuminato con le sue note. La musica criolla può portare avanti una rivoluzione sociale, abbattere i pregiudizi e le barriere, e unire l'intero paese in un abbraccio fraterno. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato, se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.